La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo sabato 18 giugno, una rassegna stampa che apriamo con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola e lo facciamo partendo come di consueto dall'apertura del mattino di Napoli. In primo piano c'è la nazionale Unlampo di Eder Italia agli ottavi, la nazionale stende la Svezia di Ibrahimovic 1-0. Il gol è vittoria del Riundo nel finale dopo una gara brutta ma prudente, oggi la sfida tra Belgio e Irlanda. Il personaggio raccontato nell'editoriale di Gianfranco Teotino conte l'arte di vincere anche senza qualità. La pagella, il migliore chi è lì, di Zaza risveglia l'attacco. In centropagine invece leggiamo un po' di cronaca, bimba muore, pediatra arrestato, casal di principe, sei mesi di cure sbagliate, ignorato, un tumore cerebrale. Blitz nella clinica, i domiciliari anche la moglie, maestra di musica che si spacciava per medico. Per la politica, De Luca De Magistris, rite sul voto di Napoli, dal sindaco Volgarità fa campagna, consulenza alle raggi, scoppia il caso. Poi ancora parla la donna uscionata dall'ex, dirò al mio figlio che papà mi ha bruciato, sta soffrendo tanto, non lo perdonerò mai. In taglio basso, Cox era minacciata, il killer vicino ai nazi, Brexit più lontana, mercati risalita, le poste scommettono sul no. Napoli, giustizia flop, arrivano gli ispettori, il CSM, 50 mila sentenze ineseguite, Orlando avvia una istruttoria. Questa era la prima pagina del mattino, restiamo sul mattino e andiamo nella pagina dedicata a Salerno. Depuratori a metà, stretta sui lavori, interventi a rilento per il riprissino, pressing per l'investimento dei fondi europei, restyling agli impianti, sotto sequestro in costiera, l'AFPAC tranquillizza, non c'è rischio di inquinamento. Caso a Porta Ovest, a fondo De Luca, i periti lavorano per l'eternità, professori universitari impegnati in alto, l'ANM sceglie il silenzio, no comment. Politica di conteggio dei voti, slitta il consiglio comunale, battipaglia, veleni tra francese e landolf, litie sugli elettori del PD. In taglio centrale, raid a Cava dei Tirreni, bomba contro il bar del capo ultra della Cavese, stocking condominiale, notaio inviato a giudizio, il professionista denunciato per atti persecutori, inchiesta centralisti a ruggi, intaggine sui CUD dei sindacalisti. Questa è l'apertura del mattino, che dà anche uno spazio per lo sport della Salernitana, Caccavale e Ciancio, idee per il futuro Granata. Andiamo avanti, leggiamo ora la prima pagina di cronache del Salernitano. L'Inps l'ha ridotta alla fame, la donna deve restituire oltre 35 mila euro con le trattenute, vive con 13 euro al mese. L'Istituto rivuole indietro i soldi sborsati per l'esposizione nell'amianto dei lavoratori, l'ex Marzotto, la denuncia del sindacalista Galatro, l'udienza in tribunale il 24 giugno. Il riconteggio a Salerno, dentro Stabile e Polverino, in una sezione mancano 90 voti, verbali, anomani, scatta la denuncia. Via Parmenide, che ne si replica, abbiamo tutti i permessi. Poi ancora l'intaglio centrale, ci sono altri titoli. Battipaglia, pieno al comizio, francese chiude alla grande. Salerno, ingegnere e moglie minacciati, il notario Gino Motto l'ha processo. Gli asso si ribalta con il trattore, muore 53enne. Castellammare, domani il ballottaggio. Civito chiude con la Carfagna, Pannullo in giro per la città. Salernetana dalla Paganese, arriva Bomberc a cavallo. Vico e Quenze, polemiche e veneni per il ballottaggio. Questa è l'apertura di Cronache del Salernitano. Ora leggiamo invece la prima pagina della città di Salerno. Ballottaggio, pesa il tifo di De Luca, Napoli e Battipaglia, le grandi manovre del Presidente contro il PD. La città, il degredo, spesi altrove, soldi assinati dalle ex carceri. Poi ancora al Ruggia, altre anomalie, operata al seno con possiletto in altri reparti. Schianto di Vallo, guidava drogato e accusato di omicidio. Iastro Cilento, muore operaio schiacciato dal trattore. Bomba carta nel bar dei tifosi, paura a cava in via Mandoli. Danni alla salera cinesca e due auto. Salerno, pochissimi spazzini. Il centro resta sporco. Poi c'è lo spazio per lo sport. È un'Italia che sa come si fa, soffre con la Svezia e poi si sveglia e ci porta in anticipo agli ottavi. Questa era la prima pagina della città di Salerno. Ora proseguiamo nella lettura delle prime pagine e andiamo su Metropolis. Napoli, zittisce gli scontenti. Nessuna in posizione, ho scelto con criteri ben precisi. Roberto De Luca, consorzio farmaceutico. Il sindaco spegne le polemiche sulle nomine della nuova amministrazione comunale. Europei, Ederche, Prodezza, Italia già agli ottavi. Salernitana sceglie Enaldidini verso l'addio. Poi la cronaca, marito e moglie molestati. Notario rinviato a giudizio a Salerno. Bimbo investito, paura e caos al lungomare. Luca Vallone si sente perseguitato. Mai venduto cocaina, la regalavo. E contro di me solo ingiustizie. Ora lascio la città. Blizzanetti di droga di martedì. Il risolatore, due ore sotto torcio, va ai domiciliari. Battipaglia, domani il ballottaggio. Motta sono pronto, francese io libera. Bomba albate, tifosi a cavo dei tirreni. Attentato nella notte al locale insomnia in pieno centro. Finisce in manette ad Eboli. Le di prostituzione sfruttava i minori. Accento l'arrestato, rapisce la sua ex in cella un 48enne. Tra le stelle e i picentini, indagini chiuse, droga a fiume, cinque gruppi verso il processo. Questa era l'apertura di Metropolis. Chiudiamo la nostra carrellata con la nuova del sud, il quotidiano lucano, giunto anche oggi nella nostra redazione. Chieste pene fino a 11 anni, estorsioni per gli amici venuti a imprenditori e commercianti, minacce e aggressione a chi non pagava. Ai due imputati viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso, avrebbe agito per favore del clan di Viezi. Eolico e Davigliano, il resame annulla il sequestro, il PD rinviò l'assemblea e fernisce a Pernacchia. Costa Molina 2, il sindaco dovrebbe solo dimettersi. In taglio centrale si è perso un anno, se De Ruggeri non c'è la si fa, si dimetta. Ma se mi chiedessero aiuto, Matera, PD all'attacco, così si perde il titolo di capitale. Per Potenza, prefabbricati di Bucaletto, meglio delle case popolari, fitti calcolati senza Isee. Barile, assistenza domiciliare, UIL attacca in 20 senza salari da 5 mesi. Per lo sport, Zaza riscrive la storia lucana e lancia l'Italia agli ottavi. In Lega Pro, Matera autieri sempre più distanti, Biancazzurri ancora senza allenatori. Il Meffi cerca lo sprint finale per tentare di arrivare al riprescaggio. Mini basket in piazza, tutto pronto per l'edizione 2016 della festa del basket giovanile a Matera. 64 le squadre, una arriva da New York. Questa era l'apertura della Nuova del Sud e con la Nuova noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte della rassegna stampa di questo sabato 18 giugno. Una rassegna stampa che riapriamo leggendo le pagine interne dei quotidiani oggi in Edicola. Una rassegna stampa che ci porta subito sulle pagine di Metropolis dove si parla di balottaggi. Domani si va al voto in diversi comuni italiani. Scatta l'ora dei balottaggi ma è incubo sull'astenzionismo. Al secondo turno sempre meno elettori si sentono coinvolti nella competizione. Il 5 giugno il 38% non ha votato. Trend in crescita per l'appuntamento di domani. In Campania si va a votare a Benevento e Caserta dove c'è la sfida tra Clemente Mastella, Benevento e Raffaele Del Vecchio. Mentre a Caserta Carlo Marino incrocia le lame con Riccardo Ventre. Ma i maggiori duelli sono nelle grandi città metropolitane. Infatti domani si torna a votare a Roma, Milano e Torino. I 5 stelle si giocano la partita a Roma e Torino fuori solo a Milano. A Roma la Raggi è in vantaggio su Giacchetti che è esponente del PD. Poi a Milano c'è la lotta tra Sala e Parisi del centrodestra, quest'ultimo. Mentre a Torino Fassino incrocia Chiara Appennino del Movimento 5 Stelle. Questa è la situazione. A Napoli e altri comuni si va a votare. 8 comuni della provincia partenopea sono chiamati al ballottaggio. Casoria, Castellammare di Stabio, Frattaminore, Gragnano, Napoli, Poggio Marino, Serra Fontana, Vico e Quenze e Volla. Invece in provincia di Salerno solo il comune di Battipaglia. E' proprio il voto di Battipaglia, queste le parole degli ultimi candidati, ovvero Gerardo Mottola e Cecilia Francese. Per Mottola questa città torna grande, insieme a noi sono pronti. Mentre per la francese Battipaglia finirà un incubo, saremo liberi, niente paura. Al primo turno la percentuale, vedeva in fantaggio Mottola, il 30% contro il 23,1% per quanto riguarda la francese. Vedremo quello che accadrà domani. Chiudiamo il capitolo dei ballottaggi per aprire la pagina di cronaca. Lo facciamo subito attraverso le pagine della città di Salerno. La procura contesta l'omicidio stratale. Si complica la posizione del 24enne che era alla guida dell'auto. Si era messo al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti. A causare il tragico incidente stradale costato la vita. Mercoledì sera al 27.10 a Pasquale D'Angiolillo. Potrebbe essere stata l'alta velocità unita probabilmente alla droga consumata dal conducente, il 24enne Marco Mascolo, prima di mettersi alla guida. E' questo che il sostenuto procuratore Ivan Aniglio, in accordo con il procuratore Grippo, ha iscritto sul registro degli indagati Mascolo con l'accusa di omicidio stratale. Proseguono intanto i lentaggi, intanto i funerali di Pasquale, tanto dolore e lettere degli amici. Sequestra e tenta di violentare una ragazza, Raptus, di un 47enne muratore di Centola, che ha aggredito anche la mamma della 19enne. Restiamo sulla cronaca, avviciniamoci sempre al Cilento. Si ribalta il trattore operaio, muore. Un 53enne di Oiasso è stato schiacciato dal peso del mezzo agricolo, è stato vivo e è deceduto durante il trasferimento verso l'ospedale di Agropoli. In lutto anche la comunità dei bikers di Capaccio Abruzzese, fondi infatti il club dei Big Bros. Buccino, il paese si ferma per l'addio di Nicola Volpe, il 55enne operario deceduto mercoledì, sempre schiacciato da un mezzo agricolo mentre lavorava nei suoi campi. In taglio centrale assaltano un distributore, 5 arrestati, bloccata una banda che aveva effettuato un furto sulla Cilentana. Ora si indaga su altri colpi. Ascea, un lido sul lungomare, oggi sit-in di protesta. A Sala Consilina arriva un nuovo comandante per la compagnia dei carabinieri, il tenente Davide Acquaviva. Da lunedì prenderà il posto del capitano Emanuele Corda. Questa era la pagina, le due pagine, dedicata alla cronaca. Ora invece parliamo di sport. Iniziamo con la Salernitana, una Salernitana che guarda al mercato in attesa di sciogliere il nodo del nuovo allenatore. Low cost, idea Caccavallo e Ciancio per l'attacco e la difesa. Da Roma la Lazio potrebbe confermare Granata e i prestiti di Ronaldo e di Oikonomidis. Intanto Franco cambia la maglia, mentre Rossi è destinato a restare. Ancora notizia per quanto riguarda il nuovo allenatore. Inzaghi, De Canio e Sannino, il futuro Granata ha tre teste. Vengono da esperienze differenti e giocano con moduli diversi. Imprescindibile la difesa a quattro per Inzaghi, per De Canio. Prima di tutto il risultato, mentre per Sannino motivazione e continuità. Profili, l'ex tecnico della Lazio è stimato dal padrono Lotito. Gli altri due invece sono ben visti dal direttore Fabiani. Vedremo quello che accadrà. Intanto si parla anche di molto altro, di Giovanili, dove si aspetta il via libera da Claudio Lotito per pianificare l'attività del settore giovanile della Salernitana. L'ex nazionale accetterebbe entusiasta di intraprendere la nuova carriera da dirigente, dove ha concluso quella da calciatore. Ma prima di accettare vuole certezze di programmi, soprattutto del budget, che la società intende mettere a disposizione per il settore giovanile. Per la polistica, Cilento di Corsa, una sfida di 8 km accanto al mare, entra nel vivo del circuito Cilento di Corsa, con la quinta tappa in programma domani, la 8 km di Santa Maria di Castellabate. Questo per quanto riguarda la Salernitana, ma è ora di celebrare anche la nazionale italiana ad Euro 2016, la formazione di Conte, ieri con numerose difficoltà ed una partita non certo eccellente, riuscita nel finale a trovare i tre punti e il passaggio anticipato agli ottavi di finale, grazie ad un gol dell'Italo-Basliano Eder. E viene subito celebrato Eder sulle pagine sportive del mattino. Italia, Magia Eder, avanti tutta. Questo è il titolo di apertura. L'Oriundo inventa il gol vittoria contro la Svezia di Ibrahimović. Gli azzurri sono già gli ottavi, primo tempo sotto tono, poco coraggio di punte ed esterni. Nella ripresa cambia qualcosa, Zaza cambia volto al match, Parolo c'entra anche la traversa. Ancora tre le reti realizzate per quanto riguarda la Eder con l'Italia. Primo del debutto a Sofe contro la Bulgaria, secondo a Baku con l'Azerbaijan. Le pagelle del mattino sulla sfida dell'Italia. Chiellini il vero gladiatore, Zaza risveglia l'attacco. Migliora in campo, Chiellini con sette ed Eder con sette. Il primo ha fermato Ibrahimović in quello che è stato un duello senza esclusioni di colpi. Il secondo, dopo una partita anonima, ha trovato il gol vittoria. Questa è di fatti la pagina del mattino dedicata alla nazionale italiana. Ma anche su cronache del Salernitano viene celebrata la nazionale di Antonio Conte. Maggi, meraviglia di Eder. I azzurri di Conte sono già agli ottavi. Con un gol nel finale, l'Italia stende anche la Svezia e c'entra il primo obiettivo. Il CT iniziamo a dare delle risposte, nessuno ci credeva. Intanto sul fronte mercato. Amsic dice il mio futuro è a Napoli. Sondaggio per Witzel e Candreva. Via da Napoli non ho mai nessun mal di pancia. Ho altri due anni di contratto e quindi il mio futuro è a Napoli. C'è anche la Champions da giocarsi e vogliamo fare bene. Queste le parole che ha dichiarato Amsic e soprattutto il suo procuratore. Poi si parla anche di altro, di futuro. Si parla molto di quello che può essere il futuro di giocatori importanti in orbita a Napoli. come Herrera, ma diversi discorsi per Candreva e Witzel, più vicini ad altri lidi. Questa è la situazione. Una notizia relativa alla Serie D, attesa per la campagna abbonamenti. Mercato Palumbo è il primo obiettivo. La Nocerina avrà all'intero San Francesco a disposizione. La squadra, dopo la proporzione dall'eccellenza, programma la stagione nella quarta serie. Questa è la situazione dello sport. Noi con la pagina sportiva chiudiamo questa edizione della Rassegna Stampa. Vi ricordo che news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web, 1tvweb.it, mentre l'appuntamento con l'informazione torna alle 13.45 con l'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata e soprattutto augurarvi un buon fine settimana.